Carissimi tutti, con profondo sgomento e grande dolore abbiamo appreso ieri la notizia della dipartita da noi del caro padre Gregorio Darenzo. Ero in viaggio per un impegno pastorale a Noi Cattaro, quando il guardiano di questo convento, padre Rinaldo, mi ha contattato per comunicarmi che padre Gregorio, a causa di un'importante emorragia cerebrale, era stato trasferito dal reparto di riabilitazione dove si trovava per le terapie necessarie al recupero della deambulazione dopo l'intervento subito qualche settimana fa, a quello di rianimazione con un quadro clinico alquanto compromesso. Notizia confermatami proprio da Sua Eccellenza, Monsignor D'Ambrosio, che ho sentito dopo alcuni minuti, che mi ha parlato di una severa e devastante emorragia cerebrale e da padre Aldo, vicario provinciale, recatosi subito in ospedale dopo essere stato avvertito della grave situazione. Anche alcuni medici, immediatamente dopo, mi hanno informato della gravità del momento, lasciando poche speranze ad una possibile e seppur minima ripresa del suo stato di salute. Non c'è stato il tempo di superare il forte disfiacere che aveva colto me e il segretario provinciale, Fra Antonio, che mi accompagnava. Subito, repentina, è giunta la notizia del decesso. Proprio nel pomeriggio precedente eravamo stati da lui a fargli visita. Aveva un volto sereno, velato lievemente dalla sensazione di leggeri brividi di freddo, nonostante il clima particolarmente caldo di quel giorno. Nella tarda sera tutto è precipitato e se ne è andato in silenzio, senza fare rumore, ma creando un tonfo indescrivibile di stupore, di turbamento in tutti noi, che invece speravamo di rivederlo presto all'opera con la sua gioviale vivacità e dinamicità. La sua morte è per tutti noi una prova inaspettata e dolorosa, che ci chiede di aprirci con fede all'imprevisto di Dio. Padre Gregorio ci ha lasciato proprio in questo tempo di Pasqua, dove la luce del risorto e il profumo della vita nuova ed imperitura ci riempiono di speranza e ci spingono a fidarci di quanto il Signore ci ha guadagnato con la sua passione, morte e risurrezione. La prima lettura ci ha ricordato proprio questa verità. Nel Battesimo siamo stati sepolti con Lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dei morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in novità di vita. Siamo riscattati, comprati a caro prezzo per essere uniti a Lui non solo a somiglianza della sua morte, ma anche della sua risurrezione. Questa condizione deve sollecitarci a vivere da uomini nuovi, capaci di mettere in atto quegli insegnamenti evangelici che ci rendono poi degni di ereditare il Regno dei Cieli. Gesù nel Vangelo ci ha ricordato che cosa sarà il giorno del giudizio universale e come avverrà. Dopo aver diviso le pecore dei capri in senso figurativo i buoni dei cattivi, dirà ai buoni, venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il Regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, perché cioè avete vissuto il comandamento dell'amore. Mentre coloro che non avranno abbracciato la logica del Vangelo e che egli avrà posto alla sua sinistra, al contrario saranno allontanati da Lui e avviati ad una destinazione di condanna, perché non meritevoli di godere in eterno la sua presenza. Il metro di giudizio, cari fratelli e sorelle, è l'amore. Con un'efficace espressione il mistico San Giovanni della Croce affermava, al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore. Il Signore ci riconoscerà proprio da come avremo saputo amare. È il motivo per cui Gesù riassume tutta la legge e i profeti nell'unico comandamento. Questo è un precetto eterno che ci eleva all'esperienza del trascendente e conferisce la massima dignità all'esistenza umana. La legge di Dio è chiara e dura in eterno. Non possiamo confonderci, come potrebbe accadere con le leggi umane, che cambiano continuamente e si adeguano ai contesti e ai processi storici che attraversano i secoli. La legge del Signore è perfetta e non può cambiare mai, perché non riguarda l'ordine esterno delle cose, ma il nostro intimo, tocca il nostro cuore, riguarda il senso stesso dell'esistenza umana ed il suo destino finale. E tutto ciò era ben chiaro nella vita religiosa e sacerdotale di padre Gregorio. In tutto il suo cammino non ha mai smarrito questo orizzonte, anzi è stato il suo unico riferimento che gli ha consentito di rafforzarsi in quei principi che lo hanno reso su questa terra un uomo, un frate e un sacerdote autenticamente evangelico. Padre Gregorio, al secolo Giuseppe Antonio, è nato a Peschici il 21 maggio del 1942 da papà Francesca Antonio e mamma Maria Loreta Forte. A soli 16 anni, il 3 agosto del 58, ha vestito l'abito religioso presso il nostro convento di Morcone, dove alla fine del noviziato, il 9 settembre del 1959, ha emesso la professione temporanea dei consigli evangelici. Il 23 maggio del 1963, a Terlizzi, dove si trovava per gli studi filosofici, si è definitivamente legato al Signore, nella famiglia dei frati minori cappuccini, con la professione perpetua dei voti. Terminato l'iter formativo degli studi filosofici, prima a Bari, poi a Campobasso, il 17 dicembre del 1966 è stato ordinato presbitero da Monsignor Alberto Carinci, presso la chiesa conventuale del Sacro Cuore di Campobasso. Nel 1968 inizia la sua ricca e proficua attività pastorale e fraterna, rivestendo in provincia diversi incarichi. Dopo aver alternato la sua permanenza fra i conventi di Vico del Gargano, San Marco Lacatole e San Severo, come padre spirituale, viceparroco, vice direttore del seminario ed economo, per quattro anni, dall'agosto del 75 all'estate del 79, è stato trasferito nel convento di Sant'Anna a Foggia, dove ha svolto il compito di collaboratore parrocchiale e di insegnante di religione. Dal settembre del 1979 è stato inviato a Gesualdo, dove fino all'estate del 1985 è stato guardiano del convento, parroco di San Nicola, economo ed insegnante. Quindi è tornato a Foggia, come economo e viceparroco, presso il convento dell'Immacolata. Nel settembre del 1988 è stato trasferito a San Giovanni Rotondo, dove per un primo triennio, fino all'agosto del 1991, ha assunto le seguenti mansioni, corresponsabile dei centri di riabilitazione motori a Padre Pio, viceeconomo provinciale, nonché cappellano dell'ospedale Casa Sollievo della sofferenza. Quest'ultimo incarico, presso Casa Sollievo, lo manterrà fino all'agosto del 1998, unito a quelli di docente e di coordinatore dei cappellani. Dall'agosto del 2001 è ritornato ancora una volta a Foggia, presso il nostro convento di Sant'Anna, dapprima come vicario, parroco, assistente Gifra e Araldini, e dal 2002 come guardiano. Nella congregazione estiva del 2007 i superiori lo hanno destinato nuovamente a San Giovanni Rotondo, come parroco di San Francesco e assistente degli Araldini. Al termine di questo mandato pastorale, nel 2017 gli è stata affidata la nostra infermeria provinciale e nel settembre del 2023 è stato nominato anche vicario della locale Fraternità. Il caro padre Gregorio conclude così la sua esistenza terrena, il 14 aprile ultimo scorso, verso l'ora sesta della terza domenica di Pasqua. Che dire di lui? È stato un frate che ha avvertito forte il senso di appartenenza alla nostra famiglia religiosa, puntuale sempre nell'adempimento delle sue mansioni, ma anche a tutti gli atti che scandiscono la nostra vita insieme. Allegro e gioviale, simpaticamente chiassoso, la sua presenza si percepiva a distanza quando, con la sua voce squillante e musicale come il dialetto del suo paese di origine, inondava spazi e luoghi da lui frequentati, anche solo per lasciare un semplice buongiorno ai presenti o per chiedere un non banale come stai a chi sapeva essere tormentato da un dolore, da una situazione irrisolta, da un turbamento. Con spirito veramente fraterno ed evangelico si faceva carico delle storie e delle necessità del prossimo, soprattutto degli ammalati. negli anni trascorsi a San Giovanni Rotondo, anche quando non era cappellano, ogni santo giorno, come è stato ricordato, si recava presso l'ospedale di Padre Pio per far visita agli infermi e per esortarli, con parole buone e colme di speranza, ad affrontare la malattia con spirito cristiano. Non pochi medici e infermieri hanno dovuto, tra virgolette, tollerare le sue, sempre tra virgolette, invadenze, benevole, ma ad un tempo efficaci, quando con l'autorevolezza di un vero padre esortava ad accelerare alcuni provvedimenti clinici o terapeutici o ad avere maggiore attenzione verso determinate situazioni. Lungi, però, dal voler mettere minimamente in discussione la professionalità del personale sanitario, che rispettava, mostrando a volte anche una vera e propria venerazione, verso quanti sono a servizio dell'opera di Padre Pio, talvolta investiti da esigenze più gravose delle forze umane disponibili. Lo faceva solo perché egli è stato un uomo di compassione. Padre Pio, Padre Gregorio, è stato un uomo di compassione. Soprattutto il mondo della sofferenza ultimamente non lo lasciava tranquillo. Sentiva ormai intimamente connessa al suo essere frate Cappuccino la custodia degli infermi. E questo hanno potuto sperimentarlo fino a qualche giorno fa, tanti confratelli, alcuni ormai come lui nella luce del risorto, e altri che insieme a noi stanno piangendo oggi la sua assenza. Tanti mi hanno raggiunto fino a qualche ora fa, attraverso telefonate e messaggi, manifestando cordoglio e vicinanza per la sua dipartita. Ringrazio davvero tutti. Voi qui presenti, quanti ci stanno seguendo da casa in questo momento, e le tantissime persone che, come dicevo poc'anzi, si sono rese partecipi attraverso un messaggio o una telefonata. Ringrazio l'Arcivescovo Padre Franco Moscone, Monsignor Domenico Cornacchia, Vescovo di Lucera. Il Vicario Generale di quest'Arcidiocesi, qui presente, fra Don Luca Santoro. Ringrazio Angela e Michele, che in qualche modo oggi ci fanno sentire spiritualmente presente anche Monsignor Castoro, a cui padre Gregorio era davvero tanto legato. Ringrazio Frappio Miurà, Consigliere Generale dell'Ordine, i Ministri Provinciali del Sud Italia. Grazie al nostro Fra Maurizio Placentino, anche egli Consigliere Generale qui presente. Grazie ai confratelli giunti dagli altri conventi della provincia e quelli giunti dalle province sorelle, ai sacerdoti del Presbiterio Diocesano e soprattutto a quelli della Vicaria di San Giovanni. Ringrazio anche a nome del fratello Matteo e di tutta la famiglia i sindaci di Peschici, di San Giovanni Rotondo, di Vico del Gargano. Mi sembra ci sia anche un altro signore. Apricena e Apricena. Grazie per la vostra presenza. Grazie alle altre autorità civili e militari qui presenti. Grazie alle suore dell'Infermeria Provinciale per la vicinanza e la fedele collaborazione nella cura ai nostri frati infermi. Grazie al personale medico, paramedico e amministrativo della casa sollievo della sofferenza, nonché alla comunità delle suore dell'ospedale. Grazie a quanti altri sono degni di essere menzionati in questa circostanza e che casomai in questo momento mi sfuggono. Ringrazio lei, eccellenza carissima, compaesano di pare Gregorio, amico e confidente. Le mancheranno tante cose di lui, non ultime, come ha ricordato, la delicatezza e la simpatia con cui ogni mattina attendeva il termine della Santa Messa per condividere una tazza di caffè e qualche chiacchiera. Gli ha voluto veramente bene, come a tutti noi. grazie davvero a tutti per essere presenti come avete potuto. La vostra partecipazione ci onora. Siete il segno concreto del bene che padre Gregorio, da buon frate Cappuccino, ha elargito nel nome e nel segno di Gesù Cristo. Mi chiedevo anche come poter ricordare questo confratello così caro e fedele al carisma Cappuccino. Quale immagine potrebbe rappresentarlo bene? Credo che padre Gregorio, in ragione di come ha vissuto la sua esistenza terrena, con i suoi tratti peculiari, alcuni anche molto moderni, se pensiamo a come riusciva a farsi vicino a tanti attraverso l'utilizzo del telefono cellulare, con una tensione sempre alta verso quanti erano nel bisogno, con il suo puntuale quotidiano messaggio della buonasera e del buongiorno che inviava al mattino molto presto. Ecco, in ragione di ciò, credo che padre Gregorio possa essere definito proprio come la sentinella del mattino. Mi piace pensare che sia stato proprio il Salmo 102 ad aver alimentato questa sensibilità, a voler vivere l'esperienza di chi, avendo il cuore saldo in Dio, non desiderava altro che svegliare l'aurora. Per cui quei messaggi si rivelavano un invito a sostenere il suo canto, il suo inno addio per il dono di un nuovo giorno. Vorrei lo ricordassimo tutti come un figlio degno del serafico pare San Francesco, uomo pacificato e pacificante, dalle relazioni libere e liberanti, devoto e orgoglioso di essere confratello di San Pio da Pietrelcina, da cui aveva imparato a consolidarsi nella grande devozione verso la Vergine Maria. Caro padre Gregorio, non posso che portare nel cuore, con nostalgia e orgoglio, il ricordo degli anni vissuti insieme a San Giovanni Rotondo, e non solo. Ci sei sempre stato, per tutti e per ogni necessità, con la delicatezza e la sensibilità di uno di famiglia, che davvero fa la differenza nella dimensione francescana, concretizzando l'esortazione del serafico padre ad ispirare l'amore fraterno a quello di una madre verso i suoi figli. Abbiamo condiviso valori e semplice quotidianità. Ti sarò grato sempre per le circostanze in cui mi hai incoraggiato e sostenuto, ma soprattutto ti ringrazio per la bella persona e la bella figura di frate che sei stato. Esempio edificante per me, per i confratelli della tua amata provincia e non solo, e per le nuove generazioni che ben presto sono entrati in sintonia con te, sperimentando l'affabilità di un confratello che non trascura le relazioni, ma le fonda su quei solidi principi che tengono in piedi e saldi i legami fraterni. Grazie per come hai saputo custodirci, per come hai saputo testimoniare la tua appartenenza al nostro ordine serafico, per l'amore alla provincia, per la fedeltà al Vangelo, chi è deciso di abbracciare e di vivere con letizia fino alla fine. Davvero avvertiremo forte e dolorosa la tua assenza, ma non mancherai di farti sentire dall'assù per richiamarci alla fede cristiana che ti ha fatto vivere in mezzo a noi con lo stupore di un bambino e la saggezza semplice dei grandi uomini. Pregheremo per te e cercheremo di raccogliere anche la tua eredità spirituale per testimoniare al mondo il valore e la bellezza della vita cappuccina. I confratelli che hai accudito, accompagnato e servito nella nostra infermeria provinciale. I tuoi cari familiari defunti e i tanti che hanno sperimentato la tua carità evangelica, precedendoti nella casa del Padre, ti attendano alle porte del Paradiso, insieme a San Francesco e San Pio, pronti ad aprirle perché tu possa prendere parte con loro alla grande ed eterna fiaccolata del cielo. La visione di Gesù risorto che ti dice, vieni benedetto del Padre mio, ricevi in eredità il regno preparato per te fin dalla creazione del mondo e la condivisione della gloria di Maria, degli angeli e dei santi, siano la tua ricca e meritata ricompensa. Riposa nella pace dei giusti, amato Padre e fratello nostro. Amen. Grazie.